ciao bene e benvenuti in questo posto si chiama cazzo che me ne frega e siamo qui oggi riuniti per far vedere un po di bellezze al nostro carissimo ospite Matteo Bruno e il suo amico o collega Marco Cioni che si stanno divertendo girate le capo, possiamo osservare guarda, davvero molto divertente, andate là che fanno cose, una sorta di accoppiamento in un ballo, non capisco è un po' complesso posso provare sul ramo sul ramo ci provo, aspetta ok, ce l'ho è un po' di più Signore e signori, cane secco da Slim Dogs! E' vero ragazzi, c'è vero, c'è una team, stai con la giacca, scusa, vieni, vabbè, date stop questa cosa che poi diventa un problema. Avete una sorpresa voi? Io chiamerei sul palco Davide, lui ti veda, io scelgo. E' una sorpresa per Matteo Peruno, potresti i sentimenti andare a prenderla? No, tutta la storia non è preparata ragazzi, cioè se ci sparano chiamate la polizia. No, l'uccido! Che cos'è? E' una racchetta da tennis. Ci sono solo curelle. Piano, 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 ti direi, è un fucile in realtà. Cos'era molto lentamente. Sono dei fiori? Molto lentamente. Sono dei propri fiori? Sono dei fiori. Molto lentamente. È prosciutto? Sì o è qua? Sì o è qua? Sì o gira questa cosa? Dovete stare tutti molto attenti. Non l'hai capito? E' meglio dei fiori. Ah sì? No vabbè. No 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 no. Ma perché era molto piano. Eh no no no. Il pavimento è di legno. Mio Dio. Girola, girola, girola. Aspetta, un attimo arrivo subito. Che ho da lì, il microfono è proprio... Girola, girola, girola. No, vabbè. Grazie. Sei il mio eroe della vita. Grazie. 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 È il gadget più bello. Lo sai che prima o poi ci arrestano? Cioè, chiamano proprio la sicurezza. E tu le fai così oppure riprendi anche... Abbiamo regalato un business. Hai un canale. Lo stai progettando. Ok. Quando ce l'avrai contattaci, lo ti metti in tutti... Cioè, ti posto ovunque. Che bello. Grazie. È stato un piacere. È stato un piacere. Grande. 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 Com'è? 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 È la cosa più bella che abbiamo mai ricevuto in regalo.